Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video Sì, mi è arrivato, che cosa? Uno squishy Oh, l'ho aperto prima di fare, ovviamente la banana, però diceva originale Però non mi è arrivata dalla bustina originale Cioè, non è giusto Vabbè, cioè mi diceva originale Io si credevo perché vedevo anche la bustina E però, cioè Aspettatevi, vado a prendere un attimo il tablet e vi faccio vedere Anzi, un attimo il telefono di mia madre, aspettate Ecco, allora Andiamo Su Wish Wish Cerchiamo Wish Wish Uh, wish Eca Adesso ho esco Wish Vai Wish Squishy Scusate Wish Squishy Ok Ok sto tagliando squisci aspetta ok E no, e no, no Allora Dov'è? Ma la trovo? Guardate questo farnetto Un giorno vorrei fare un video che Vedo i squish su wish E li ordino anche con voi Che carino Ecco Guardate C'è, eccola La bustina originale C'è Non C'è la bustina Qui Ma qui no C'è, e allora gli altri squish Non mi arrivano Tipo, questa carolina che ho ordinato Non mi arriverà Nella bustina originale Dov'è la bustina? Origin Dov'è? Dov'è? Oh mio Dio Ecco Ecco Questa è la bustina originale Non so se la vedete Sto di qui A fianco Che questo selleva Stavano Aspetta che me la faccio vedere Meglio Ecco qui C'è a fianco Qui la bustina originale Che contiene Questa carolina Vi faccio vedere anche L'altro squishy Che ho ordinato Se lo trovo Poi un giorno Vorrei fare comunque Che non ordino Vedo gli squishy Con voi Dov'è? Comunque Eccola Ho ordinato anche questa E questa è carinissima Ordinerò Forse Vabbè questa Forse ordinerò Questa Vabbè Anche questa Perché costa solo 3 euro Quindi andate su wish A comprarli E vabbè Comunque Non mi hanno mandato La bustina originale Ma va bene Guardate quanto è bene C'è il foro In phone strap Però non credo Mi stia attaccare al telefono Questa è gigantesca Il mio Sto registrando però È più piccolo Tipo è tagliato così Il mio Ed è piccolino Così Quindi non credo Che ne vado No Nemmeno qui Vabbè Comunque Questa Vediamo La morbidezza Paura Oh mio Dio È morbidissima Non solo costa 1 euro Ma è morbidissima Solo ci ho messo tanto A venire Però Oh mio Dio Quanti è carino Oh mio Dio Cioè Sono senza parole Per questo Squishy E poi non fa le rughine Quando lo squisso Perché certi Squisci Fanno le rughine Guardate Cioè È una cosa Fenomenale Fenomenale Questa Bananina Oh mio Dio Quanto è carina Maronna Quanto è bella Adesso me la piego tutta Spero di non romperla Bella Bella Sì Sbatto Lo slime Quanto è carina Bene ragazzi Questa era La vera Squishy Che Mi è arrivata Da Wish Dicato che non mi è arrivata Nella buschina originale Ma Vabbè Spero che questo video Vi sia piaciuto E se così Lasciate un like Quello che volete voi E se volete Mi potete iscrivere Al mio canale Per ora Stiamo a 19 iscritti Allora Basta che Cliccate qui Andiamo su YouTube Un attimo Ecco Questo è il mio profilo Per esempio E per esempio Qui Aspettate Ecco E siamo arrivati A 19 iscritti Non si vede Vabbè Comunque 19 Da lontano Si vede No Comunque 19 Basta che Premete qui Iscriviti Solo che io non mi posso iscrivere Ovviamente Perché questo è il mio canale E Vabbè Spero che Questo video Squisholotto Di questa Banana Che Non vorrei smettere Di squisciare È finito Purtroppo Quanto è carino Spero che Questo video Vi sia piaciuto E se è così Lasciate un like Quello che volete A voi E se volete Vi potete scrivere Vabbè L'ho già detto Vi potete scrivere Il mio canale E Vabbè Ciao